La Camontella vuole consolidare il terzo posto in classifica. Le ragazze di Dino Guadalupe affronteranno la sempre Farmacia Salerno. Una gara sulla carta non dà le grosse difficoltà. Ma il tecnico Brindisino non vuole abbassare la guardia. L'allenatore vuole farsi e fare un bel regalo ai propri tifosi per il suo 41esimo compleanno. La cosa difficile di queste partite è affrontarle come partite in sé. Innanzitutto il valore delle partite è dato dal fatto che ne mancano poche alla fine della stagione. Quindi è inutile starla a sottolineare. Però vanno affrontate come partite in sé e anche come prove generali. Nel momento in cui la regola del season finisce, al di là di come finisca, non si ha molto tempo per poi andare a preparare eventualmente il proseguio. Quindi quelle che sono le nostre pecche vanno curate, che sia di intensità, che sia di approccio. Adesso a livello tecnico non si può sperare di trasformare più di tanto perché il tempo è quello che è. Però è importante capire veramente l'importanza del collettivo e del fatto di non tirare mai indietro con l'atteggiamento. Perché poi anche Cutrofiano ha dimostrato che se a livello di atteggiamento ci si concentra su quelle cose che si sa che si possono fare bene, poi alla fine si migliora anche durante la gara, al di là delle difficoltà che si incontrano. Grazie a tutti.